Nei prossimi mesi ad Agropoli prenderanno il via una serie di opere pubbliche. Si tratta in particolare della nuova caserma della Guardia di Finanza, per la quale la Giunta ha approvato il progetto definitivo per la costruzione per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro. La nuova caserma nascerà nei pressi del liceo scientifico. L'attuale sede di Via San Marco vede la presenza in servizio di 35 finanzieri. Il canone annuale pagato è pari a 34 mila euro. Dovrebbe invece essere pronta per giugno 2015 la nuova pista di atletica dello stadio comunale. La Giunta ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo dei lavori di impianto sportivo Raffaele Guariglia, rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della legge italiana calcio professionistico Lega Pro per un importo complessivo di 450 mila euro. Infine sarà riqualificata l'area del fiume Testene nel tratto del ponte di via De Gasperi al ponte di via Salvo d'Acquisto per una spesa complessiva di 700 mila euro, di cui 549 mila euro per lavori compresi oneri per la sicurezza e 150 mila per somme a disposizione. Si tratta del completamento di un'operazione già avviata, inclusa come intervento migliorativo nell'appalto per i lavori di difesa anti-erosione costiera del Lido Azzurro. L'offerta migliorativa proposta dalla ditta giudicatrice comprendeva il rifacimento della pavimentazione dell'alvio e delle pareti del corso d'acqua dalla foce fino al ponte di via De Gasperi. Con questo progetto si va a riqualificare il tratto mancante.